Io sono già qua in ebollizione, dovrò prendere dei calmanti perché il 28 di aprile ho la fortuna che mi sono procurato grazie al lavoro che ha fatto il mio straordinario movimento indipendenza veneta, una squadra veramente la io non so come ringraziarli e per quello che ho la forza è andare avanti. Il 28 di aprile potrò dire in modo composto o meno così improvvisato di come sto facendo ora, penso con argomenti anche molto tosti davanti a 15 giudici che so che sono attenti perché ho già avuto modo di andare davanti a loro e avere anche una bella vittoria nel processo dei Serenissimi del 2001 dove abbiamo tolto il reato infamante fascista delle associazioni antinazionali, abbiamo civilizzato l'Italia, pensato, e abbiamo tolto dal codice penale l'articolo 281 un reato che è quello di associazioni antinazionali, quando manifestavi i pensieri contro l'Italia, se dicevi l'Italia è una m, ti potevano procurare un processo penale perché manifestavi il tuo pensiero contro l'Italia. Ma veniamo a noi, il 28 di aprile andremo a parlare di diritti di democrazia, di manifestazione del pensiero. Che cos'è la legge 16 in fondo? Quella che il governo ha impugnato l'8 di agosto perché non vuole che noi esercitiamo un atto di democrazia e chi l'ha impugnata? Il capo del governo e anche il segretario del partito del... Antidemocratico! Antidemocratico! Allora, in verità, in verità, il ragazzo che non è nato sotto e verso, è uno sveglio, abbiamo notizie certe che non voleva impugnarla la legge. Ma sapete perché non voleva impugnarla? Perché aveva già politicamente pesato il cuore di leone che abbiamo a Palazzo Baldi. Il cuore di leone che ha a Palazzo Baldi, impugnandogli la legge, che hanno fatto un regalo, infatti davanti alla televisione ho detto, io sono per l'indipendenza, io ho fatto la legge, io l'ho difesa davanti alla Corte Costituzionale, caspita, rompete il paio, sennò sto qua e mi fa anche l'indipendenza che non si accorgemmo neanche. E dice così. Vedete che la comunicazione è fondamentale. La democrazia è anche comunicazione. Allora, il Consiglio regionale, il governo ha impugnato l'8 di agosto questa legge, facendo questo, ho fatto un favore a chi, attenzione, questa è una cosa molto grave che sto dicendo, a chi pensa, ma non troverà lo spazio, di utilizzare anche l'argomento, il tema che per noi è vitale nel senso di sopravvivenza della indipendenza, per farlo diventare argomento elettorale della prossima scadenza. Non glielo consentiremo mai, mai, mai e mai. E qua io vorrei coinvolgere voi perché è l'altro aspetto. La democrazia diretta, che vuol dire, è l'esatto contrario della democrazia rappresentativa. Oggi è diventata di moda, è diventata di interesse, è diventata argomento che attrae, perché la democrazia rappresentativa ha fallito. La democrazia rappresentativa non è più in grado di garantire i principi e le regole, la legalità. Quando la democrazia rappresentativa non è più in grado di garantire, di assicurare ognuno di noi, il rispetto della legalità, il cittadino deve riappropriarsi di quella sua capacità di decisione che è data dalla democrazia diretta. Quindi la democrazia diretta è uno strumento di autodifesa. È il cittadino che si riappropria del potere di decidere di quello che è il suo futuro. Io nel mio libro, l'ho citato, ho tirato fuori prima, avevo proprio indicato che cos'è la democrazia e mi ero rifatto a un pensatore di sinistra, Luciano Canfora, però è uno studioso straordinario, che aveva dato della democrazia questa definizione. Dice, nel lessico ateniese, popolo, demos e democrazia sono sinonimi. Non demos, popolo e kratos, potere. No, demos, popolo e democrazia nel suo insieme sono sinonimi. E dice, è parola che indica al tempo stesso sia il soggetto sociale della democrazia, cioè il popolo, che il regime politico fondato sul potere popolare, ovvero la democrazia. Quindi è la massima espressione dell'atto di responsabilità e di libertà che il cittadino può compiere in un momento che, come questo, è decisivo per poter cambiare le cose. Quindi, grazie agli amici che hanno presentato questa serata in nome della democrazia diretta, che è lo strumento primo che ci può meglio garantire nel percorso verso l'indipendenza. Perché, vedete, chi ha frenato la legge 16, l'11 giugno, ve l'ho detto, la frenava chi doveva promuoverla. Successivamente, l'8 di agosto, l'ha fermata il governo che si dice democratico, che dovrebbe promuoverla. E la Costituzione dice, articolo 21, che la libera manifestazione del pensiero è un valore assoluto che va tutelato. Allora noi abbiamo capito che di necessità dobbiamo usare le istituzioni, perché il parto verso l'indipendenza, usate la metafora, la natura ci insegna tutto, non dobbiamo inventare nulla. I migliori pensatori, ho visto, studiando in tanti anni, leggendo, sono sempre quelli che si ispirano alla natura, guardando la natura. Il bambino che nasce, ha la sua indipendenza, però parte dalla madre, il cordone ombelicale che lo tiene legato. È sempre un qualcosa. Quindi non si può inventare l'obiettivo, realizzare l'obiettivo dell'indipendenza, di un nuovo ordinamento indipendente e sovrano, partendo da nulla, o invocando una democrazia di piazza. No, noi dobbiamo utilizzare le istituzioni che ci sono come strumento attraverso il quale far partorire la nuova realtà che è quella dell'indipendenza. Ecco perché al convegno internazionale di Castelverando abbiamo parlato di indipendenza per via istituzionale. Non perché riteniamo che sia l'Italia che ce le debba dare, le istituzioni italiane hanno uno sciocco che dice una cosa del genere, uno che non ha capito nulla. Per via istituzionale vuol dire utilizzando le istituzioni che noi abbiamo qui in Veneto, nel nostro territorio. E in proposito, in primo luogo, sono le istituzioni comunali, le nostre municipalità. Noi abbiamo un grande senso di appartenenza al nostro territorio. I sindaci sono per me i capisaldi del nuovo percorso di cambiamento. E noi guardiamo a loro con grande simpatia, con grande interesse, con grande senso di riconoscenza perché, ripeto, quei 182 che io non considero eroi, però sono cittadini responsabili che hanno fatto votare i loro consigli, il famoso ordine del giorno, hanno dato prova di credere nella democrazia. E quindi... Io non voglio anticipare, perché so che gli amici di Treghiso stanno facendo un mega evento il 23, in una sala che sarà ancora più grande di questa, all'hotel maggior consiglio. Però, in onore dei sindaci e per stimolarli, anche perché questa sala lo merita, tutti voi, perché siete numerosi, voglio anticiparvi l'idea che come indipendenza vedeta abbiamo partorito dopo averci ragionato abbastanza. Mettere l'attuazione, il percorso di attuazione della legge 16 anche e principalmente nelle mani delle nostre amministrazioni e municipalità. I nostri consigli. Allora, come è avvenuto con l'approvazione dell'ordine del giorno? Abbiamo scritto, in questi giorni l'abbiamo trasmessa e sarà presentata, penso, adeguatamente al maggior consiglio il 23, da un gruppo di sindaci del Trevigiano, perché devo dire, bisogna dare atto, l'area del Piave, del Trevigiano è quella più avanti sempre per l'impegno, grazie ai nostri amici del quartiere del Piave, fatemi un applauso, ce n'è qualcuno qua, un gruppo straordinario, un esempio per tutti, tra l'altro i clienti, perché quando facciamo le riunioni sono quelli che censurano sempre, che vedono più avanti le difficoltà e segnalano le nuove forme di organizzazione e di impegno del movimento, quindi straordinario. La delibera, cos'è sta delibera? L'idea è quella di fare sì, per quanto possibile, e margini ce ne sono moltissimi, di, non dico di sostituirsi, ma di fatto comunque realizzare una situazione per la quale se il Consiglio regionale rimane inattivo, inoperante, inadempiente meglio, a quello che è scritto nella legge 16, partendo dai cittadini, dalle municipalità, noi possiamo raggiungere il risultato in tempi brevissimi, molto breve. Allora la delibera a questo scopo fa una serie di premesse che vi aumento, spiega cos'è il diritto di autodeterminazione, spiega che è stato votato l'ordine del giorno e quindi grazie all'azione delle municipalità, dei sindaci, dei consigli comunali, il Consiglio regionale è stato costretto ad approvare la legge 16 e alla fine la delibera è questa, ha tre punti estremamente semplici, ve li leggo. Primo, il Consiglio comunale dovrebbe deliberare di promuovere e tutelare concretamente il diritto dei cittadini alla libera manifestazione del proprio pensiero, articolo 21 della Costituzione, invitando la Giunta e il Consiglio regionale a dare urgentemente attuazione alla consultazione referendaria come prevista dalla legge 16. Due, autorizzare e delegare il sindaco, allo scopo di valorizzare il diritto dovere, dovere di partecipazione e di responsabilità dei propri concittadini, a mettere a disposizione della Regione e Veneto gli opportuni ambienti, spazi, locali, strutture, impianti di proprietà e o nella disponibilità dell'amministrazione comunale, nonché di comandare il personale dipendente all'esplettamento di tutti quegli adempimenti necessari e opportuni per lo svolgimento della consultazione referendaria. Tre, autorizzare e delegare il sindaco, allo scopo di agevolare i propri concittadini a manifestare il diritto costituzionale di esprimersi, di partecipare e aderire a nome dell'amministrazione comunale alla Costituenda Assemblea delle Municipalità Venete in favore del diritto di voto, non dell'indipendenza, in favore del diritto di voto sul quesito dell'indipendenza del Veneto. E si chiamerà AMI Veneto, Associazione Municipalità del diritto di voto per indipendenza del Veneto. Previsto dalla legge 16 del 2014, tale assemblea dei sindaci dovrà porsi qua l'interlocutore, sollecitatore della giunta del Consiglio regionale per l'azione logistica e organizzativa delle municipalità aderenti e impegnate nell'attuazione degli obiettivi, oggetto rappresenta del libero. Credo che dovete sostenere la comprensione. Allora, la delibera è stata studiata, lo profai, basso profilo, però è chiara, il contenuto e l'intento politico è di altissima rilevanza, è un detonatore, scuote, deve scuotere, deve rompere i meccanismi. E non siamo i fantasiosi che ci sono inventati questa cosa per stasera. Io il 9 di novembre, come sapete, sono stato a Barcellona dove ho avuto il piacere, nonostante i soliti detrattori, di incontrare per alcuni minuti Artur Mas e poi di incontrare tutta una serie di personalità che hanno organizzato quel referendum simile ufficiale, però l'hanno organizzato, portando 2.350.000 persone al mondo. Sapete perché loro diventeranno indipendenti nonostante l'opposizione della Spagna e di quanti altri? Perché dietro ci sono escluse 9.848, mi pare se non sbaglio, municipalità sulle 800 e 57. Praticamente quasi tutte, 6-7 sono fuori su 800 euro. Le municipalità, i sindaci hanno dato a disposizione le strutture, il personale, la polizia, tutto quello che serviva. Questi sono atti di appropriazione di spazi di democrazia diretta che si è fatti dai singoli, assieme ai loro sintaci, alle collettività, sono dirompenti. L'indipendenza diventa un fatto reale nel giro, nel volgere di un breve tempo. Quindi pensiamoci un attimo. Io sono certo a Treviso, sappiamo già, c'è già un gruppo di 10-15 sindaci attenti e pronti. Il 23 verrà una prima fase a presentarla al maggior consiglio, qui l'abbiamo detto anche agli altri sindaci, la manderemo a tutti, adesso qua la struttura organizzativa, la grande struttura organizzativa dell'indipendenza veneta operà a avere nei modi che sono stati ritenuti opportuni, dopo la presentazione ufficiale, formale, completa a Treviso. Noi aspichiamo che nel giro di poche settimane si possa formare non un'associazione, non un comitato, attenzione, una assemblea, in modo tale che non abbiano rogne e difficoltà, un'assemblea. I sindaci si ritrovano in un'assemblea, delegati autorizzati al loro consiglio regionale fanno l'atto politico principale, in favore non dell'indipendenza, perché se no sarebbero vulnerabili, potrebbero attaccarli, potrebbero avere, in favore del diritto di voto sul tema dell'indipendenza. Insegniamo all'Italia cos'è la democrazia di oggi. Allora, io credo che per ora può bastare perché voglio sentire proprio i sindaci su questa proposta che abbiamo buttato tra le braccia in questo momento per sentire la loro opinione, le loro considerazioni. Io vorrei che voi capiate una cosa, se è possibile, che questo che stiamo facendo ora si può realizzare se noi ne abbiamo la coscienza e la responsabilità che quello che abbiamo intrapreso è un percorso non solo fattibile ma a portata di mano, ce l'abbiamo davanti. Pensate, io sono stato in Spagna, in Spagna e in Catalogna, mi sono accorto che i catalani hanno molte, molte, molte più difficoltà di noi, moltissime. Noi abbiamo una strada aperta. Se noi avessimo avuto un governatore e già un'assemblea dei sindaci organizzata, noi avremmo già votato perché in Italia la legge l'hanno impugnata ma non sospesa perché non hanno coraggio. Ti tirano sempre una sverba a metà per vedere cosa succede. Ti tirano mica un bel sverbotto così reagiti. L'hanno un pochettino, questi staventati perché l'intendimento, no, quando devono fare badate, è la regola della politica, quando devono cambiare qualcosa, l'IVA per esempio, no, quando l'hanno inventata, l'hanno detto un mese prima, diciamo mettiamo l'IVA di due punti. Allora sulla stampa cosa hanno detto, di uno dopo, guarda, reazione come è stata? Beh, allora invece che due lo mettiamo uno in tanto pace. Come i ladri furfanti, imbonitori, imbroglioni, cioè non c'è più neanche là il coraggio di prendersi le responsabilità delle proprie scelte, come ha fatto qualcuno nel corso della storia. Per cui abbiamo uno stato debole, la Spagna rispetto alla Catalogna è molto, molto più forte, molto più organizzata per contrastarli. L'Italia, di nuovo, è solo paura e non mandano i carri armati, c'è ancora qualcuno che dice queste cose qua, non li mandano, non possono, perché l'Italia in un contesto europeo li prenderebbero subito per il coppino e non li mandano i carri armati. Non ha capito proprio nulla, l'Italia non potrà mai fare un atto di forza, sempre che, e finisco, questo è un punto fondamentale che io ribadisco costantemente, noi non travalichiamo mai quel limite per cui facciamo diventare la nostra azione per l'indipendenza un problema di ordine pubblico. Se qualcuno ha in mente questo, lo dico ogni volta, cambi sala, cambi movimento, vada un'altra parte, non è dei nostri, ci fa perdere la partita. La partita è persa immediatamente, GTI a zero, non c'è possibilità. Noi vinciamo la sfida dell'indipendenza utilizzando quella legalità di cui parlava anche il dottor Gianangelo Bellati prima, che lo Stato quotidianamente calpesta, disprezza oppure non attua, ma nessuno ha i principi costituzionali, non solo una legge ordinaria. Quindi abbiamo davanti a noi la possibilità di essere liberi. Lo volete, sì o no? Sì! Non l'ho sentito bene? Sì! Grazie!